ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono black knight e oggi siamo con un nuovo episodio di minecraft oggi non sono nella serie costruisce la civiltà c'è ricopia la civiltà non sono in quella serie ma sono nelle bad wars allora ora vediamo se uno almeno si può fare ora che vengo scagliato se mi avvicino troppo questo non posso questo non posso questo invece forse sì che posso se c'è scritto join posso di verde lo sto pronto o non vedo niente non vedo niente eccolo di gia full raga qui c'è una lotta anche per entrare nelle bad wars madonna quanti sono ok mi ti impongo raga faccio cerco una bad ok ragazzi ci sono non ce lo faccio non ce l'anno non ce l'anno non ce l'anno non ce l'amore non ce l'amore Finalmente raga sono dentro Finalmente sono dentro Io voglio stare nel team Acqua Voglio stare nel team Acqua, dimmi di sì Ma sto da solo? Non è bene dove si devono giocare in gruppo Raga io sto da solo Che palle Dov'è il mio letto? Un lettuccio Questo non posso spoccarlo Oh, ah eccolo Era sotto i miei piedi Scusate Allora Prendiamo questo Andiamo qui Allora, blocks Ok, andiamoci a prendere Tanti blocchi di argilla Questa qui Tanti, tanti Ora metto off camera questo procedimento Ok ragazzi Ho fatto off camera Ho preso un botto di blocchi Due stack Ora Ricopro tutto Questo però lo devo togliere Allora Ok Metto qua anche questo Perfetto Perfetto Se voglio Se voglio comprare Basta fare così No, non compro Accidenti raga No Sono caduto da solo Sto bloccato Che palle Che pizza Il bronzo Non lo spawna più Il coso Non lo spawna più raga Questo non spawna più Successfoli upgrade Spawner Level 2 Level 2 Ok Aumentiamolo di livello Il problema è come si fa Questo io non lo so Andiamo A comprare Come si fa a aumentare di livello Non usiamo cassa No Da qui non si aumenta No Le sfere Non si aumenta Arco Non si aumenta niente Come cavolo si fa Ad aumentare di livello Ah Price 8 Iron Ne ho 7 Eccolo Fatto Ne ho 8 8 Ferro 9 Come faccio A fare l'upgrade Allora No Armatura no 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 Questo No Niente Non c'è l'upgrade Spawner Anni More It's Already Forse se lo spacco Amete di livello Dove Io l'ho preso Eccolo Ora lo devo Fare così No Non è più Uno Spawner Accidenti Questa Bedwars È Finita Questa Bedwars È Finita Ragazzi Sono il caos Più totale Allora Noi ci vediamo In un prossimo Video Però Prima Di farla Un'altra Bedwars Nel prossimo Video Dovrò a capire Come si fa Ad aumentare Di livello Bronzo Ciao